I residenti di Pagliare di Sassa chiedono la rimozione dell'antenna di telefonia mobile posizionata a pochi metri dall'antica chiesa di San Pietro Apostolo a ridosso del centro abitato di Pagliare. Una richiesta che nasce dai residenti preoccupati per le conseguenze che l'antenna, che dovrà essere utilizzata anche per la sperimentazione del 5G, potrebbe avere sulla salute delle persone. Questa mattina un sit-in davanti alla chiesa organizzato da alcuni consiglieri comunali di centrodestra criticati da una parte della popolazione di Sassa per essere stati sinora assurdi alle loro richieste e ora viene denunciato cavalcano l'onda della campagna elettorale. Elezioni o no, per molti l'antenna è abusiva e pericolosa e deve essere spostata al più presto. Chiesto dunque il sequestro della struttura. Oggi noi chiediamo il sequestro dell'antenna perché è un'opera abusiva, tra l'altro ci viene riconosciuta anche dall'Asle, perché l'Asle non ha mai autorizzato la posizione dell'antenna per quanto riguarda la sperimentazione 5G. Forse hanno tenuto conto solo e discursivamente del provvisorio che deve essere smantellata e tolta, la definitiva deve essere tolta e quindi sequestrata. L'opera è stata messa su un sito archeologico con tanto decreto ufficiale, la gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e quindi l'antenna non è autorizzata dal Comune. Secondo voi è anche stata realizzata in modo abusivo? Sì, è autorizzata in modo abusivo, tra l'altro non ci sono le autorizzazioni del Vigile del Fuoco, non ci sono le autorizzazioni per quanto riguarda la sperimentazione del 5G in L'Aquila come città sperimentale. Stiamo pensando di non toglierla definitivamente nel senso di non volere nell'area un'antenna che poi porta ad avvalorare il concetto del 5G che sappiamo è perseguito dal Sindaco e dall'Aggiunta, come progetto 5G che è un fatto evolutivo, tant'è che l'Aquila è tra le città pilota, sono poche le città pilota per il 5G, è un fatto evolutivo, importante. Però pensiamo a una delocalizzazione in quest'area, spostarla di qualche chilometro, chiaramente sentita la cittadinanza perché non la possiamo spostare dalla finestra di Pagliare e portarla alla finestra di Genzano, che avremmo lo stesso rigurgito popolare.